All'inizio avevo amato il gioco della tigre, è un lavoro, è una tigre che veramente gioca e quindi c'è una simulazione di quest'animale e quindi ci saranno dei movimenti che cercheranno di imitare. Cercherò di farlo un po' al rallentatore perché è un esercizio molto veloce, proprio perché sono animali che si muovono molto velocemente. Cercherò di farlo piano per far vedere come si muovono queste animali. Dovrei ritornare qui. A noi siamo sempre con il saluto, tutti dentro. Grazie. 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 Grazie.